Mi chiamo Marcello Zunisi, sono legale rappresentante dell'Associazione Nazione Rom. La domanda era rivolta al Direttore Generale Ludovica Groho, con la quale ho già fissato un incontro. Mi rivolgo al Ministro Claudio De Vincenti e a Laura Cavallo, che è il Direttore dell'Ufficio del Dipartimento per le Politiche Sociali. Come sapete i Rom, sinti e camminanti, senza fissa dimora, sono beneficiari dei fondi strutturali europei, in particolare del PON Metro 2014-2020, di cui la Agro è direttore. Sono 894 milioni di euro. Sono beneficiari anche del PON Inclusione 2014-2020, 1 miliardo e 2,50 miliardi. L'autorità di gestione del Comitato di Sorveglianza è il Direttore del Ministro del Lavoro, Tangorra. Alla luce dei regolamenti europei, noi abbiamo chiesto, questa è la domanda, abbiamo chiesto di entrare nei Comitati di Sorveglianza. C'è stato un incontro anche con l'Agenzia di Questione Territoriale, verbalizzato, qui i fascicoli. È stata chiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di formare un forum che delegasse i nostri rappresentanti. Si è formato il forum, ma nel momento di convocazione del forum, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, UNAR, il Dipartimento per le Opportunità, diretto da Maria Elena Boschi, ha messo un articolo dicendo che non avevano nessun obbligo. Questo ci ha portato a incontrare il Commissario... Non è ancora la domanda della domanda. Arrivo, arrivo, scusate, finisco. L'11 maggio, ora, il 2018, io ho incontrato a The State of the Union, in Assemblea pubblica Corina Creto, ho consegnato questo dossier che glielo darò, Ministro, e abbiamo chiesto, alla luce di questa violazione e del fatto che i fondi non sono stati spesi per Rom, Sinti e Camminati e senza fissa dimora, garantire l'inclusione, la sospensione dei fondi. La domanda è questa. È 2014-2020, lo so che il dibattito era sul prossimo settennato. Noi abbiamo ancora due anni e mezzo. La domanda è cosa intende fare il Governo italiano e la Presidenza del Consiglio, il Governo attuale, per ripristinare la legalità, inserire i nostri delegati nei comitati di sorveglianza e procedere rapidamente con tutte le città metropolitane, tutte le regioni depositarie degli altri, degli altri, FESR, 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 a includere... La Puglia ci ha scritto un mese fa sul FESR, mi ha chiesto a me, ditemi chi sono i vostri delegati, ci stiamo riunendo, i braccianti agricoli bulgari di Foggia, i braccianti immigrati. Questa è la domanda, cosa intendete fare? Grazie. Mi è stata chiesta una domanda all'inizio della... Abbiamo tutti diritto, il Ministro non credo che andrà via, risponderà a tutti, ma adesso io non posso, sono l'una, sono le due, e non posso tenere onestamente tutto il pubblico per delle domande che si possono fare sicuramente sia per iscritto o sia alle persone direttamente, insomma, in qualche modo. Vuoi rispondere, Claudio? Ammetto che il tema non l'ho seguito nelle settimane scorse, quindi vedremo nei limiti in cui resteremo in carica, sarà mia premura a lavorarci sopra, applicheremo le norme, quindi applicheremo le regole dei fondi europei, e se le regole dei fondi europei implicano che c'è la presenza all'interno del Comitato di Soviglianza, non c'è nessun problema, non vedo ostacoli di sorta. L'invito che faccio è ognuno di noi è portatore naturalmente di istanze molto giuste, sono tutte giuste, guardate. La perplessità è solo una. Se ognuno che è portatore di un'istanza giusta, se non la vede pienamente soddisfatta, chiede di bloccare l'utilizzo dei fondi, io credo che non sia entusiasmante come comportamento complessivo del Paese. Però, detto questo, ognuno ha diritto a fare ciò che la legge gli riconosce il diritto di fare, verificherò la situazione, se questa inclusione all'interno del Comitato di Soviglianza è possibile farla, sarà assolutamente utile farla, non ho alcuna obiezione di nessun genere. Grazie a tutti, grazie Ministro.